Siamo arrivati alla fine delle semifinali perché poi le finali vanno in diretta anche su Automoto TV quindi non si può scarare da quell'ovare Asimone ha subito preso il comando con una partenza bruciante lasciando lì sia Asimone Firenze che Ivan Pegna Cinciglia Niente da dire ma io quando vedo Cinciglia mi chiede a partire e fa questo ragazzino piccolino che fa con una testa Areserolle ha fatto capire che non è venuto qua soltanto per fare la coreografia Ci sta Andiamolo a vedere Andiamo a vedere Areserolle ha fatto capire che si era girato nella seconda curva del primo giro Adesso Ivan ha accorciato Ivan ha già accorciato in là di Mario che c'è da Areserolle e lì inizia a puntare Ci sono sei giri in totale Poi ora vediamo I primi I primi Lontana Problemi per Simona Firenze Leggermente 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 Un'attornaggio Leggermente 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 G l'ultimo giro andiamo ancora con il 6 e l'ultimo giro per chiudere Magnova l'ultima giornata come adesso non è di più non è in distanza poi vai con Giacomo e lui che è strano è passato e guardare come erano i 5 che andavano in segno di un finale mi sono passato e tanto vanno a chiudere il Ciccio andavano a restare e la seconda posizione poi la terza Magno Giacomo Fotti l'arrivo in volata Giprova Fontana non ci riesce non ci riesce esce in seconda semifinale gli ultimi 5 che devono andare in finale vai 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 Zappetti con viene la è la miseria e quanto di noi il francese vince il campione del campionato di Francia davanti intanto un amico quello poi adesso è spazio il topetto un po' il piede poi si ha poi con il 6.50 abbiamo Guinos attacco a due con gli altri che si allargano al salto pericolosissimo quello che è successo ma si chiude in tranquillità tutto bene anche in questo momento stando così le cose li palisco anche i primi 5 vanno in finale quindi in questo momento Ramiro Queio Zoppetti di Pietro Milano e lui non si sarebbe rifinalisti ma Pietro c'è un Bossetti in caccia c'è un Bossetti in caccia per la quinta posizione Ramiro davanti Zoppetti e due assettati di sangue come Mea e come Guinos che vogliono quella terza posizione anche se al momento serve a poco serve per partire più avanti intendiamoci io dico sempre che i primi 5 vanno in finale e questo è quel che conta però è chiaro che se si vince si parte in prima fila se si arriva a quinta si parte in ultima se si arriva a quinta si arriva a quinta si arriva a quinta attacco attacco attenzione qua si allarga si allarga malamente qui lascia quasi e qui si arriva a quinta e qui si arriva a quinta e qui si arriva a quinta punto ci sta andiamo a attacco con il ultimo giro niente da fare contro un Ramiro Quello gli spagnoli in questo momento fanno spavento Zoppetti me ha di piegare me ha di piegare di piegare di un'accessiva adesso sto più staccato rispetto a me apre di piedra me ha va addirittura anche all'attacco di Zoppetti e si girano intanto dietro ma quello che conta sono i primi cinque in ordine in cui arrivano e se non la mia o meglio Gabriele Zoppetti me ha Gabriele di piegare me ha di piegare